dalla valle crescono un'esagerazione di piante ci sono i fragmiceti che sono i canetti se vogliamo dirli con il termine molto più comune che è la canna comune non la rundodomex che è un altro tipo di canne ma proprio la fragmite comunis e quello lì veniva utilizzata per fare diversi lavori anche per uso pratico domestico per arder eccetera ma più che altro per lavoro in quanto che veniva utilizzata le arelle per fare le arelle fare i gratticciati da soffitto quelle arelle di canne che si mettevano addirittura nel soffitto per farci l'intonaco e tenevano l'intonaco poi c'era un'altra pianta molto importante ed era quella della tifa la tifa noi normalmente la chiamiamo paviera è un tipo di erbe che cresce proprio nell'acqua che vengono raccolte nel periodo giusto tagliate e immagazinate per essere poi lavorate d'inverno e queste qui avevano diverse funzioni fra l'altro per esempio si facevano le arelle quelle da mettere anche a terra al posto dei tappeti si metteva la rolle nelle vecchie e povere case e poi c'erano i giunchi una specie di pianta molle tutta liscia senza nodi che viene utilizzata anche per fare diversi lavori fondamentali erano per esempio per impagliare ed abbellire certe cose poi si facevano gli stampi per esempio sia con la paviera che con i giunchi gli stampi e per metterlo nel diremo così di inganno di richiamo per gli uccelli metterlo nei chiari dove si faceva la caccia in tinella cioè nel tino il carex è un tipo di pianta cespite rizoma diremo così assomiglia a delle grosse teste appoggiate sull'acqua il carex è quello che normalmente è usato per impagliare per esempio le sedie per avere idea le sedie impagliate si impagliano di carex poi in dialetto si dice zullina per distinguerlo da un altro tipo di carex sempre la zullion il quale non viene su questi diremo così socchi di natura ma viene proprio direttamente dal terreno e quello lì serviva per esempio per impagliare i fiaschi di vetro c'era anche un altro tipo la morfa frutticosa sono infestante praticamente noi altro ci amiamo al sandrone perché il sandrone era il nostro burattino che voleva dire che valeva abbastanza poco e perché perché per se stesso la legna non valeva molto quel che valeva era che poteva essere utilizzata addirittura per essere tagliata a metà tronco per il lungo e quindi essere usato diremo così per il doppio della funzione di un normale vimine e poi è un'altra proprietà che veniva utilizzato specialmente nei fuochi per tenere da conto la cenere per esempio le donne usavano questa cenere per metterla nei mastelli dell'acqua bollente per fare il cosiddetto ranno allora non c'erano i detersivi quindi il ranno era l'ideale per pulire e lavare i panni ciao ciao